Benvenuti amici di Genitorialità e Tecnologia, puntata numero 89, come vedete oggi si parla di un test, parliamo in particolare di dipendenza dalle tecnologie, abbiamo ospite Emanuel Celano che ha inventato, messo a punto questo test per i nostri ragazzi, per i ragazzi dell'età più o meno che vanno dalle elementari, forse anche qualcosa prima, fino alla fine delle medie, quindi per tutti quelli che hanno figli under 14, questa è una puntata secondo me molto interessante perché c'è la possibilità di avere un test tra l'altro con una valutazione immediata dei risultati, dopo la sigla conosceremo Emanuel. Benvenuti a Genitorialità e Tecnologia, il primo podcast italiano che si occupa di uso consapevole della tecnologia in famiglia. Eccoci qua, puntata 89, Emanuel Celano, benvenuto sulle frequenze di Genitorialità e Tecnologia. Grazie, molto cortese, sono felice di essere qui tra voi e grazie dell'invito ancora. Davvero, grazie per la tua disponibilità, tu sei il fondatore di analisi dei rischi informatici.it e ho visto che hai creato questo test e quindi vorrei parlare un po' del tuo lavoro e di come è nato questo test. Come ti è venuta questa idea? Sì, allora dunque io sono Emanuel Celano, sono laureato in psicologia all'Università di Bologna, ho una laurea magistrale e comunque lavoro nel settore informatico da oltre 18 anni, quindi ho anche esperienza in ambito tecnologico. Ho unito le due passioni, ho sempre amato i bambini da quando ho possibilità di fare i campi solari piuttosto che varie attività che mi coinvolgono e quindi è sempre stata una mia intenzione di poter aiutare i bambini e quindi con le mie competenze e capacità ho creato questo test proprio per venire incontro ai genitori e le nuove tecnologie. Beh, molto molto bello quello che fai perché sicuramente c'è un grandissimo bisogno, ma quando ti sei inventato questo test che risultati ti aspettavi? Dunque, allora innanzitutto il test è nato alcuni mesi dopo un seminario che ha ottenuto genitori nuove tecnologie nel 2014, quindi è già passato un po' di tempo e volevo verificare proprio quale fosse il livello di dipendenza delle tecnologie nei bambini, nei loro figli. E ho trovato nella letteratura diversi riferimenti, i comportamenti, diciamo gli aspetti degli studi scientifici che erano più importanti sono quelli classici della dipendenza delle tecnologie come comportamenti che minacciano la salute dei bambini, ai comportamenti educativi e quindi anche verificare quali sono le abitudini che si sono generate nel bambino, ai comportamenti sociali e interpersonali che riguardano i rapporti con la famiglia e ai comportamenti legati al rendimento scolastico e in generale alla formazione del bambino. Tutti questi aspetti sono colti nell'insieme, nei vari test che, come hai correttamente presentato, sono dedicati ai bambini dai tre anni in su. Il questionario è una compilazione, come dicevi, online con risultati immediati, quindi è possibile poi partecipare attivamente. Per venire a rispondere alla tua domanda, quindi quali risultati mi aspettavo, ecco, le aspettative sulla fidabilità dei risultati non potevano essere ben definite. Ti spiego il motivo. Si trattava di uno strumento che non era comparabile con i test già esistenti sulle dipendenze dalle tecnologie perché erano molto più obsoleti. Posso comunque affermare che una delle motivazioni che mi ha spinto a creare questo test è stata sicuramente il fatto di assistere al boom dei tablet. Come tu sai, alcuni anni fa sono esplosi come tecnologia e i genitori durante il pranzo erano soliti intrattenere i bambini nell'attesa del cibo con i tablet ed era diventata una situazione surreale. Quindi mi ha spinto davvero questa situazione in cui il mondo esterno, che prima era sociale, è divenuto immediatamente virtuale a creare un'analisi, una valutazione per capire se i genitori si stavano comportando in modo corretto o meno e per salvaguardare proprio la salute dei bambini. Questo è davvero illuminante poi sapere che possiamo avere tra l'altro dei risultati immediati. Tu hai la possibilità di avere dei numeri, valori veri, quindi puoi raccontarci chi sta facendo questo test, quante persone lo stanno facendo, ma soprattutto quali risultati rilevi? Certo, volentieri. I test riguardavano la possibilità di misurare il livello di dipendenza, come dicevamo, nelle tecnologie dei bambini di diverse fasce di età e l'ho suddiviso in tre range di età, che per facilità anche degli ascoltatori possiamo chiamare A, quello dai 3 ai 6 anni, B, quello dai 7 ai 10 e C, quello dagli 11 in poi. La percentuale di completamento delle risposte mostra un maggior numero di compilazioni nella range C, quindi ho ricevuto molte più risposte in questi anni, nei bambini dagli 11 anni, diciamo ai 14, con un totale del 60% in più di risposte. Andiamo ad analizzare i risultati, come mi chiedevi. Tutti e tre i test hanno totalizzato un punteggio medio di moderata preoccupazione, questo è positivo, quindi se la classificazione del punteggio prevedeva e prevede appunto tre stadi, ovvero il punteggio più alto al test dà un'indicazione molto positiva, mentre il punteggio più basso ad una valutazione negativa, l'intermedio indica di prestare attenzione al problema. Ecco che allora tutti e tre i test che ho creato mostrano che il range è considerato questo, la fascia intermedia. Tutti e tre i valori della media statistica si attestano appunto in questa fascia, ma ci sono delle differenze che emergono come dati significativi nelle risposte date alle singole domande. E vediamo insieme ad esempio i vari campioni, se sei d'accordo, la differenza tra le varie fasce di età. Molto interessante, quindi come dicevi ci sono bambini un po' più piccoli, ci sono più o meno bambini che vanno ancora all'elementare e poi ci sono quelli delle medie. Esatto, il campione A, il primo dei 3-6 anni, un elemento che spicca subito è che la televisione ad esempio è sempre accesa durante i pasti nelle famiglie italiane, è pari al 34%, quindi un bambino su tre si trova di fronte alla televisione nelle varie aspetti di vita quotidiana. Lo stesso campione preso in esame afferma che il 54% utilizza il tablet o vede la tv appena sveglio, quindi anche questa è un'abitudine su cui ci sarebbe comunque da riflettere. Allarmante, invece, l'elemento che secondo me va prestato più attenzione di tutti è la risposta sugli effetti delle tecnologie per la salute. Il 30% del mio campione ha dichiarato che il figlio ha avuto qualche volta tremori, abbassamenti o innalzamenti della temperatura, allucinazioni visive, dolore agli occhi dopo essere stato davanti alla tv o al tablet o a giocare ai videogiochi. E pensa che addirittura il 9% di questo campione dichiara che questo accade spesso. Ecco, questo è un dato che secondo me è inquietante, anche inquietante se vogliamo. Assolutamente, e non si manifesta nelle altre fasce d'età, quindi è proprio l'approccio iniziale, quindi il primo approccio con la tecnologia che è massiccio, è pesante e quindi i bambini possono soffrire di queste problematiche. Poi abbiamo un altro elemento importante che è la manifestazione degli scatti di rabbia. Quando il bambino viene chiesto di togliere il videogioco, il tablet, ecco che allora il 25% del campione dichiara che ha sempre delle manifestazioni di scatti di rabbia, o il 20% dichiara che questo avviene spesso. Stessa cosa, il 52% dichiara infine che il figlio è fortemente contrariato se gli viene tolto il videogioco dopo l'ennesima richiesta di terminare e di passare a fare qualcosa di più di altro o di più importante. Quindi ci sono in questa fascia d'età questi elementi importanti da ricordare. Questo è interessante. Io ho letto della letteratura che diceva che comunque la vera dipendenza, cioè quello che provoca comunque degli sconquassi importanti e che soprattutto richiede, addirittura forse la considerazione del ricovero è sotto l'1% della popolazione, forse tra l'1 e il 2, ma volendo esagerare. Sei d'accordo? Cioè la vera dipendenza come malattia è residuale? Nella nostra cultura forse il dato è concreto. Nelle altre culture ci sono culture dove la tecnologia è talmente invasiva e costante che ci sono situazioni anche molto peggiori delle nostre. E quindi questo valore secondo me sale. Ok, quindi immagino che tu faccia riferimento alla Cina o a altre realtà del genere, certo. A questo punto comunque hai tirato fuori delle evidenze abbastanza importanti che comunque hanno riscontro anche nella letteratura. Ma a questo punto ti sei figurato quali possono essere i suggerimenti per i bambini che usano troppo la tecnologia? Non diciamo che siano completamente dipendenti, però che usano comunque troppo la tecnologia. Quali sono i suggerimenti? Volentieri se prima mi fai terminare gli altri due campioni. Sì, sì. Il secondo campione è quello dei bambini dai 7 ai 10 anni. Come primo dato interessante abbiamo che il 50% dei bambini preferisce trascorrere il proprio tempo al computer, su internet e alla televisione o con i videogiochi, piuttosto che stare con il resto della famiglia. Quindi anche questo è un dato che è forte da analizzare. È quasi identica la percentuale invece data di risposta per il range precedente relativa alla televisione, come abbiamo già detto, qua abbiamo un 35% di bambini che si trovano di fronte alla televisione quando sono a casa, costantemente. Degna di nota invece la risposta alla domanda, se chiedete qualcosa a vostro figlio mentre è al computer e sta giocando ai videogiochi, vi dici di attendere che finisca più e più volte prima di alzarsi? Ecco qui, oltre il 50% afferma che questo accade spesso e un altro 25% che è una situazione che si verifica sempre, costantemente. Quindi anche qui un dato allarmante. Simile livello di significatività per la manifestazione degli scatti di IRA rispetto al range precedente, il 9% dice che accade sempre e il 25% spesso. Si segnala inoltre che il 45% dei genitori non controlla affatto il computer del figlio per verificare se visita siti internet non appropriati o a sfondo sessuale. La stessa percentuale, ovvero il 45% degli intervistati, afferma infine che il figlio dedica più tempo ai videogiochi al computer per divertimento piuttosto che un utilizzo didattico. Ecco, questo è quello che emerge nella seconda fascia di età. Direi che anche qui ci sarebbero tanti elementi di discussione, non trovi? Sì, certo. Stiamo parlando quindi, abbiamo detto, dei bambini tra i 6 e i 10-11 anni. Sono le elementari, le scuole elementari. Ok, sì sì no, anche qui è molto molto interessante. Sarebbe veramente interessante anche capire le variazioni negli ultimi anni, perché io immagino che forse 5 anni fa le cose erano completamente diverse, quindi forse c'è stata una recrudescenza di questi fenomeni. Sicuramente, ho notato comunque che questi dati sono amplificati dal numero maggiore di compilazioni negli ultimi due anni, quindi anche se il test nasce un po' più datato, ma la compilazione è più significativa se negli ultimi due. Poi il terzo campione, così abbiamo definito tutti e tre i campioni, il campione C, quello dei bambini dagli 11 ai 14 anni. Come per la precedente fascia di età, anche qui confermiamo che il 50% dei bambini preferisce trascorrere il suo tempo libero al computer, su internet, alla televisione, piuttosto che con il resto della famiglia. Ci è apparsa interessante inoltre la risposta alla domanda. Se riprendete vostro figlio per qualsiasi motivo, accade che la prima cosa che lui o lei fa è quella di rinfugiarsi al computer o alla televisione o ai videogiochi, ebbene un 15% dice che accade sempre e un 40% che accade spesso. Anche questo è un dato significativo su cui riflettere. Si aggiunga che la percentuale dei bambini sopra gli 11 che preferisce passare il tuo tempo al computer, su internet, televisione o ai videogiochi, piuttosto che con il resto della famiglia, qui passa da un 50% della fascia precedente a ben un 65% di questa. Positiva invece è la riduzione della presenza della televisione durante i pasti, che qui scende dal 23%. Più della maggioranza dei genitori, oltre il 53%, ha tentato di ridurre il tempo che il proprio figlio dedica alla tecnologia, ma senza riuscirci. Oltre il 30% ha affermato che il proprio figlio ha sempre le cuffie del cellulare nelle orecchie e per questo non risponde alle domande. Altra notizia interessante e significativa è stata la risposta di disappunto dei figli alla richiesta di alzarsi per fare qualcosa di importante se sono impegnati al computer che se stanno giocando ai videogiochi. I ragazzi non rispondono alla richiesta dei genitori, si fanno pregare per lasciare interrompere l'attività di gioco con il dispositivo e nella misura sono passate dal 75% della fascia precedente a ben l'83% di questa. È da notare che la cattiva abitudine dei ragazzi per il 75% trascorrono più del 45% scusami, che nel 75% trascorrono più di 45 minuti ai videogiochi prima di dormire, con un tempo medio di utilizzo della tecnologia superiore a 3 ore al giorno, nel 54% del campione e addirittura con il 38% con il telefono sempre in mano durante la giornata. Molto simile al campione precedente, la percentuale dei genitori, circa 42, che non controlla il computer del figlio per verificare se visita siti internet inappropriati o a sfondo sessuale. Ed è sorprendente che oltre il 40% dichiara di non avere mai controllato nessuna applicazione presente sul telefono del proprio figlio. Si aggiunge infine che è in aumento per questo range di età la percentuale degli intervistati, circa il 60%, tra coloro che affermano che il figlio dedica più tempo ai videogiochi, al computer, per divertimento piuttosto che un utilizzo didattico. Ecco, questi sono i dati che emergono anche nella terza fascia. Sì, interessante. A questo punto possiamo quindi tornare ai suggerimenti per i bambini che usano troppo la tecnologia, a questo punto magari distinguendo un po' tra quelli più piccoli e quelli, diciamo, i preadolescenti. Bene, come primo elemento di attenzione occorre ricordare che studi recenti hanno confermato che il tempo passato davanti agli schermi modifica letteralmente il cervello dei bambini. Lo studio è molto recente ed è pubblicato anche sul nostro sito, sul mio sito. Fino a tre anni i bambini non dovrebbero utilizzare la tecnologia per arrivare all'asilo con una solita base del mondo reale e non superare comunque anche dopo i tre anni un monte ore di massimo, tale da poter mantenere crescendo un linguaggio espressivo. I bambini che fanno un uso intensivo delle tecnologie, ricordiamo, hanno una minore abilità di dare il nome rapidamente agli oggetti e più basse capacità di scrittura, associata ad una minore integrità della sostanza bianca del cervello adibita appunto alle funzioni del linguaggio e dell'alfabetizzazione. Fatta questa premessa, i suggerimenti da offrire ai genitori. Certo ce ne sono, sono tanti, dovrebbero essere anche personalizzati a mio parere. Ogni bambino è un individuo a sé, ha una propria intelligenza, una propria personalità. Mi sento comunque di offrire alcuni consigli. Allora, il primo elemento di dissuasione da un utilizzo eccessivo e inappropriato delle tecnologie è sicuramente il nostro esempio in qualità di adulti. È normale per un bambino imitare l'adulto, quindi questo è un elemento essenziale. Siamo noi a dover dare l'esempio. Il secondo suggerimento è che i genitori imparino a conoscere le tecnologie e io dico almeno allo stesso livello del loro figlio. Può essere che molti di loro per questo si sentiranno in difficoltà, è normale, ma ripetiamo che senza una buona alfabetizzazione informatica non potranno mai essere in grado di aiutare correttamente i loro figli. È necessario non solo conoscere i rischi e i pericoli dell'utilizzo delle tecnologie, ma lo sottolineo più volte, è di grande importanza mettere anche in risalto gli aspetti più creativi, educativi, formativi, che un uso intelligente delle stesse può offrire. Se non si ha molta dimestichezza in questo settore, il mio consiglio è quello di iniziare a trascorrere più tempo con i propri bambini, utilizzando il computer, il telefono, il tablet e diciamo proprio imparare insieme a loro o da loro in modo ludico. E questo era il secondo suggerimento. Poi ne abbiamo un terzo, è quello di ricordare al bambino che deve esservi sempre un valore aggiunto nell'utilizzare le tecnologie. Se non vengono utilizzate per migliorare qualcosa e risolvere un problema o per socializzare in modo profondo e non superficiale, il tempo che viene impiegato con esse diventa un tempo senza significato. Ed i genitori con il dialogo possono aiutare a comprendere queste motivazioni ai loro figli ed essere loro di esempio. Quarto ed ultimo punto, per concludere, è quello di porre dei limiti. E non solo limiti verbali, ma io direi proprio limiti tecnologici, ovvero imposti da noi adulti grazie all'utilizzo di app specifiche, oppure programmi utilizzati anche nel computer, o soluzioni più integrate come il router per bambini che si aggancia al router di casa e già possiede tutti i filtri necessari per proteggere i più piccoli, oltre alla gestione degli orari e di utilizzo di internet. Il punto qual è? Se applichiamo la solita punizione dettata dal no verbale, non usare la tecnologia, non fare questo, basta, eccetera, questo cosa succede? Provoca una reazione di rabbia nei confronti del genitore e si è sempre considerati come genitori cattivi. Se invece presentiamo a nostro figlio le motivazioni di un corretto utilizzo della tecnologia e definiamo insieme il massimo utilizzo delle stesse, quindi in termini di ore, di risorse, eccetera, sarà la macchina a determinare lo stop di esecuzione delle attività e non il genitore direttamente. Il bambino sarà così più responsabilizzato e nessuno avrà più ragioni per arrabbiarsi o rimanerci male. Rimangono comunque vali delle sane abitudini da far rispettare sempre, come quella di non utilizzare i telefoni mentre si mangia o prima di dormire. Beh, questi sono suggerimenti molto molto interessanti. Tra l'altro so che hai anche realizzato, se non sbaglio, un'infografica per un po' riassumere i buoni comportamenti in rete. Esatto, ed è fa parte proprio dei suggerimenti che do ai genitori. Venendo appunto a questo aspetto, è importante avere un buon rapporto con le tecnologie, come abbiamo già dichiarato. Esistono diversi genitori che in letteratura vengono chiamati genitore proibizionista, quello che non conosce la tecnologia, anzi le giudica, sono pericolose e non sono un buon esempio. Allo stesso modo esiste il genitore permissivo, quello che lascia ogni scelta in mano al figlio, perché non ha tempo, perché non ha capacità di insegnargli un uso responsabile della tecnologia, così come esiste il genitore super investigativo, quello che si mette a controllare ogni mossa del figlio senza che addirittura lui ne sia consapevole. Ecco, io personalmente sono a favore del genitore chiamato responsabilizzante, cioè quello che si impegna ad imparare la tecnologia, ad instaurare un dialogo sereno con il proprio figlio sui dispositivi tecnologici e si assicura che le informazioni disponibili siano quelle corrette, documentandosi lui stesso in modo permanente. Se vogliamo ricordare i consigli comunque più elementari degli in nota sono non considerare un dispositivo tecnologico come la nuova babysitter del figlio, quindi attenzione a sostituire il dispositivo come se fosse un sostituto di una babysitter, stabilire insieme dei tempi massimi di utilizzo, abbiamo visto il motivo, vietare l'utilizzo durante i pasti del telefono e del tablet, così come prima di dormire non vanno utilizzati i dispositivi, il sonno ne risente. Utilizzare una corretta postura ed una corretta illuminazione, recentemente non so se sei al corrente ma è stato riscontrato un fenomeno di cecità transitoria che può diventare anche permanente se si utilizza il telefono al buio per più di tre ore, quindi è un dato tecnico scientifico allarmante, ci sono bambini che rimangono senza vista transitorialmente, per fortuna, ma addirittura possono avere dei danni permanenti e quindi non applicare mai delle punizioni con dei no perentori, ma imporre come abbiamo detto prima dei limiti tecnologici ed infine non fare mai delle eccezioni alle regole che abbiamo stabilito, sia che siamo durante il periodo scolastico, sia che siamo in vacanza o durante i periodi di festa. Poi rispondere al discorso del vademecum, per i genitori che vogliono presentare ai loro figli quelli sono i diritti e i doveri dei bambini nei confronti delle tecnologie, ho inventato un mini decalogo che volentieri ti metterò a disposizione da appendere nella propria casa nel quale illustro ogni aspetto della vita tecnologica di un bambino che merita attenzione. Il decalogo si chiama proprio siamo bambini tecnologici, conosciamo i nostri diritti e i nostri doveri. I punti sono 12 e sono illustrati nel disegno che ti consegnerò. Ok, perfetto, lo perteneremo a disposizione dei nostri ascoltatori. Tra l'altro tutto quello che abbiamo detto in questa interessante chiacchierata sarà poi reperibile nelle note di questo podcast. In particolare possiamo dire che il test può essere fatto online da chiunque, accesso libero, è gratuito, la valutazione è immediata e l'indirizzo che abbiamo un po' accorciato e semplificato per i nostri ascoltatori è bit.ly slash test trattino, quindi meno, dipendenza. Ripeto, bit.ly slash test trattino dipendenza. Poi metteremo a disposizione anche questa infografica. L'ultima domanda che ti faccio a questo punto, visto il tuo interessantissimo lavoro, è dove possiamo seguirti o seguire la tua azienda online? Certo, la mia società si trova sul sito analisi dei rischi informatici.it, offre una rubrica chiamata allerta pericoli informatici, nella quale vengono pubblicati ogni giorno articoli sui pericoli della rete. Esiste anche un'app omonima per entrambi gli store, iOS e Android, dedicata proprio a questo fine. Quindi potete semplicemente cercare su Google allerta pericoli informatici e ci troverete come primo risultato. Perfetto, ti ringrazio tantissimo e a questo punto invito tutti a fare il test e a vedere se appunto c'è qualche problema di dipendenza e comunque a seguire Emanuele Celano per il suo interessante lavoro. Grazie mille Emanuele, alla prossima! Grazie a voi! Per tutte le informazioni su genitorialità e tecnologia visitate il mio sito www.gialluigibonanomi.com